Iniziamo col dire che questo video non lo volevo fare, no dai scherzo, però dopo aver parlato del King of the Ring Tournament è giusto anche parlare della storia, seppur molto breve, del Queen's Crown Tournament, ma prima di tutto io vi saluto, sono Luca Libre, un benvenuto in questo nuovo video della Tovela del Ring e appunto come dicevamo andiamo a ripercorrere la storia del Queen's Crown Tournament. Mi viene un po' da sorridere perché ha l'archivio soltanto un'edizione e fu un'edizione, come vedete dal titolo, davvero, davvero fallimentare. Un'idea brillante comunque sulla carta perché ci stava per dare un po' di importanza alle donne che venne alla WWE nel 2021. Ma andiamo a vedere nel dettaglio un po' il tabellone, le donne partecipanti e la finale in sé. Andiamo a leggere il tabellone dei quarti di finale o primi turni perché comunque i match si disputarono, metà del tabellone di SmackDown e metà del tabellone di Raw. Nel tabellone di SmackDown le partite dei quarti di finale andarono in onda l'8 ottobre del 2021 e videro Zelina Vega contro Toni Storm e Liv Morgan contro Carmella. Dall'altra parte, nella parte del tabellone di Raw, avevamo due match sulla carta interessanti come Dana Brooke contro Shayna Baszler e Dudrop contro Natalia. In semifinale passarono Zelina Vega da una parte e Carmella dall'altra, che quindi andarono a sfidarsi nella puntata del 15 ottobre 2021 SmackDown. E nell'altra parte del tabellone troviamo Shayna Baszler e Dudrop, che appunto si sfidarono in semifinale, con la finale che diventò Zelina Vega contro Dudrop. Ci sono due particolarità in questo torneo. La prima è che la finale si svolse il 21 ottobre del 2021 in Arabia Saudita, a Riyadh, esattamente al King Fad International Stadium di Riyadh. Però l'altra particolarità, e molto triste, è che questo torneo fu veramente schiacciato dalle critiche, per me giuste. Anch'io bestemmiai parecchio durante quel periodo, semplicemente perché fu un torneo fatto veramente molto molto a caso. I minutaggi delle partite lo testimoniano, andiamo a vedere così brevemente. Le semifinali durarono in tutto, nemmeno cinque minuti. La finale durò quasi sei minuti. I primi turni, addirittura, ci sono due match che durano meno di due minuti. Liv Morgan contro Carmella, 1,40. Dana Brugge, Shayna Baszler, 1,25. Sicuramente già da questo si capisce l'andazzo di quel torneo. Un torneo fatto molto forzatamente. Anche la finale messa in un paese come l'Arabia Saudita fa capire molte cose. Finale tra Zelina Vega e l'attuale Piper Neven, che ai tempi si chiamava Doudrop, che durò, come detto prima, meno di sei minuti. Cinque minuti e cinquanta per l'esattezza. Una finale anche tecnicamente e qualitativamente molto insipida, dimenticabile assolutamente con, però, è giusto nominare la vincitrice, ovvero Zelina. Queen Zelina, che andò a chiamarsi dopo la vittoria, Gimmick, che tenne davvero molto poco, circa un annetto, prima che si prese una pausa, e tornò poi totalmente dimenticandosi che lei era la regina. Lei comunque adesso, nel 2024, che c'è la seconda edizione, hanno messo la seconda edizione, hanno organizzato la seconda edizione, del Queen's Crown, o meglio, questa volta l'hanno chiamato Queen of the Ring, lei è comunque ancora la regina in carica. Ma tornando, appunto, brevemente all'edizione del 2021, non ci resta che dire soltanto che fu pessima, un'edizione che io assolutamente non consiglio di recuperare, un'edizione che non ha dato importanza alle donne. Se l'intento era quello, sicuramente non ci sono riusciti, un'edizione che purtroppo era partita magari con un'idea interessante, perché l'idea era interessante, come ho detto poc'anzi, però veramente nel metterla in pratica sono stati veramente pessimi e veramente molto, anche sfacciati sotto certi punti di vista, considerando anche il luogo dove c'è stata la finale. Io spero comunque che l'edizione del 2024 sarà molto godibile, molto più godibile rispetto a questa, ma comunque già dai primi turni il passo in più si vede. Sono contento dell'idea che ebbero e che continuano ad avere anche nel 2024 a distanza di tre anni, perché è giusto dare un torneo alle donne, è giusto farle comunque esprimere sul ring, anche in un torneo adatto a loro. L'unico aneo anche dell'edizione del 2024 è la finale in Arabia Saudita. Io avrei preferito rivederla nei confini americani come anni fa fecero quella maschile, ma comunque le decisioni così dobbiamo accettarle. Io spero comunque che ci divertiremo a vedere questo torneo. Se volete recuperarvi quello del 2021 non siete obbligati, però comunque per capire un po' il perché ne parlo così male, se volete recuperatelo, tanto veramente ci mettete pochissimi minuti, perché purtroppo, come dicevamo prima, il minutaggio è davvero davvero minuscolo. Fatemi sapere se siete interessati al torneo del 2024 e come sta procedendo secondo voi questo torneo del 2024. Io vi ringrazio per essere stati con me, per essere arrivati fino a qui. Se volete lasciate un like che ci fa sempre piacere e vi rimando al prossimo video della tovola del ring. Io vi ringrazio per essere stati con me, per essere stati con me.